Il costo della vita è in calo in Portogallo. Durante il mese di maggio l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,4% rispetto al corrispondente mese del 2011, pari al 2,7%. E lo stesso livello, dice l'Istituto di Statistica Portoghese, registrato nel 2010. È l'effetto del piano di austerity imposto dalla Troika.